Spirito di squadra, fiducia, voglia di migliorarsi e di non arrendersi mai dentro e fuori dal campo. Sono gli ideali che accompagnano la squadra di pallacanestro Next Nardò di Lecce nella sua prima impegnativa avventura in Serie A2, con il sostegno di Poste Italiane in una sponsorship nata sotto il segno dello sport, della solidarietà, dell'integrazione sociale. Grazie al contributo di Poste Italiane siamo stati in grado di organizzare varie iniziative per i ragazzi, sia del territorio neretino che dei paesi di Mitrofi. Quindi siamo riusciti a organizzare vari eventi anche per associazioni di ragazzi meno fortunati, organizzando anche delle partite, degli incontri, facendo conoscere anche i giocatori della prima squadra e grazie a questo portandoli anche domenicamente al palazzetto. Dal nuovo palazzetto San Giuseppe da Copertino di Lecce, inaugurato quest'anno, l'impegno sportivo e solidale della squadra Granata si è esteso anche alle scuole, attraverso laboratori di giornalismo, di educazione digitale e alimentare, la distribuzione di materiale tecnico sportivo, fino ai corsi di pallacanestro gratuiti per bambini appartenenti a famiglie in difficoltà economiche e per ragazzi diversamente abili. Lo sport non è soltanto la partita domenica, noi quello che cerchiamo di manifestare, di insegnare soprattutto anche nel settore giovanile, partendo anche dal basket, con i etici importanti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista urbano. Valori cari apposte italiane come la vicinanza al territorio e alla città, così come la promozione della salute attraverso lo sport e un corretto stile di vita. In un campo da basket, ma come in altri sport, si è tutti uguali, si gioca e si prova a fare il meglio possibile competendo in maniera corretta con l'avversario e cercando di stimolare i propri compagni. Noi siamo un esempio, ci vengono a vedere un sacco di persone, un sacco di bambini, per cui dobbiamo cercare di essere un modello di integrità ed è importantissimo ricordarsi ogni giorno.